Allora Allora portate un attimo pazienza che c'è la vintola del computer Adesso si scasa lei da sola Allora oggi sono qui per registrare un video dove vi saluto Adesso vi spiego tutto Però prima di iniziare ci sono un sacco di novità Cose da dire, da raccontare Insomma Quindi vi consiglio di iscrivervi al canale E attivare la campanella per rimanere aggiornati con tutto quanto Allora inizio con la prima cosa Un po' più shock diciamo Ho aperto Un profilo di Vinted Vi lascio il link qui sotto in descrizione Il primo link che trovate Andate a vedere se c'è qualcosa che vi interessa Se non vi va bene il prezzo Scrivetemi nella chat di Vinted E posso farvi lo sconto Non è un problema Anche se ho messo tutto a prezzi normali Para bassissimi Quindi Però in caso lo lascio qui sotto Andate a me a dare un occhio E anche se siete dei miei iscritti Ditemelo che magari Cerco di farvi sconti Tipo Proprio alti O comunque Magari ti anche di aggiungervi delle caramelle Delle cose Perché Se mi scrive Gilberto Dalla Calabria Cioè io ti voglio bene il Gilberto Però Scrive Antonella Dalla Sardegna Che mi segue Da una vita Guarda tutti i miei video Cioè io oltre che a mandargli quello che compro Su Vinted Magari gli alleggo anche Un accessorio Un qualcosa Che Capito Quindi Se vi interessa qualcosa Scrivetemi Se la persona vi va bene O se vi va bene Meglio Ma se vi va bene Mi dite E anche se comprate Ditemi tipo Annina Sono descritto così Vi aggiungo qualcosa Mi metto una cagata Non so Una caramella Un cioccolatino Qualcosa Giusto Perché ci tengo Perché voglio un sacco di pene Neanche Dio sa Adesso Detto questo Quindi vi lascio il link di Vinted Qui sotto Adesso invece Andiamo al sodo Che cosa facciamo nel video di oggi E perché sono così A parte che Io non credo di dover dare spiegazioni Perché sono semplicemente colorata nel viso Ma non succede nulla È tipo Adesso è l'1.20 di notte Io sto facendo Una Una scuola E mi sta provando Un sacco di tempo Quindi Però di questo Ne parleremo Nei prossimi video Anche domani Se riesco Volevo a registrare Un vlog Nel frattempo Vi dico che Oggi voglio provare A salutarvi E Grazie Punto Ieri è uscito un video E' uscito un video Che per me E' stato E' uscito un video Che per me è stato Importantissimo E Penso L'ho fatto Infatti l'ho messo nella categoria Nella playlist video speciali Che non Quasi mai Diciamo Metto video Solo quelli di Giulia La mia amica Che vola adesso Nel cielo Ma se no Non Quindi così Allora Intanto Saluto Alessia ASMR Ciao Che sei iscritta Al canale Il 4 settembre Allora Grazie Grazie per chi ha visto Il video di ieri Grazie per tutto il resto Adesso Vedrete che si abbasserà Anche la ventola Non ho sbagliato Portate un attimo Di pazienza E Sistema tutto E Grazie a chi ha visto il video Grazie ai vostri commenti I vostri messaggi Sapete che mi potete trovare ovunque Qui sotto nella descrizione Trovate i link Per tutto Date un'occhiata Trovate tutto qui sotto Ma di questo ne parleremo Più avanti Anche ci dedico Dei vlog Insomma Abbiamo un sacco di tempo Su youtube per far tutto Questo Questo è Un disegno Ispirato al fiore di Rapunzel Dove lui Era il suo nuovo sogno Io ho intenzione Anche di fare un fioretto Per trovare un moroso Ma lasciamo stare Perché veramente Cioè Tutti che mi dicono Anna sei un pezzo di gnocca Io tipo Vabbè E Cioè Fossi proprio Una persona Che Sia a livello Morale Sia a livello estetico Dici Ma Mi curo tantissimo E più che per l'aspetto estetico Che non me ne frega niente L'aspetto interiore Sono una persona Meravigliosa Con Miliardi Di rotte di cazzi Però sono una persona Bella E dico Ma la mia mela Dov'è Se qualcuno Deve rompere su sta cosa Esca pure da questo canale Lo blocco diretta Ma Sapete quanto Io ci tengo alla mela E Adesso anche che Sono tornata a scuola Dico questa cosa Poi iniziamo Saluto anche Valentino Pace Ciao Valentino E Albi Laulit Adesso che sono tornata a scuola Praticamente ci sono altri corsi Insieme al mio Perché io non sto facendo proprio la scuola Sto facendo un corso Ma poi vi spiegherò E E praticamente Tipo Durante la pausa C'è anche il bar Però Vedo anche altri Ragazzi Ragazzi più grandi Perché non hanno Quasi nessuno alla mia età Sono tutti più grandi Quindi tipo io Però tipo E quindi Vi dico solo che Oggi stavo prendendo il gelato E Ho visto un ragazzo carino Che è sceso da un furgone Con i capelli lunghi Perché se avete che a me piacciono Sì Vabbè ragazzi però Anche con i capelli normali Però Ho pelati Ho Capelli lunghi Infatti il mio ex Era pelato praticamente E Ho capelli proprio corti Corti Spazzolina E tipo esce sto qua Capello lungo Da qua Tatuato Camicia bianca Mamma mia Dio Cosa ho fatto Di così bello Per militarmi Oltre che al gelato Una visione del genere Allora Ho chiesto una gelata Io faccio di prego Quest'ora di vita Di morte Ho chiesto un pezzo di carta Un biglietto Ho scritto Anna Per il ragazzo Con i capelli lunghi Le ho lasciato il mio numero L'ho messo nello sportello Del furgone Che lui guidava E ovviamente Non mi ha scritto Maldica Cioè la vita è fatta di questo La vita è fatta di una cosa Tu ci provi Se non va Vi ricordate che c'è anche Cool Come si chiamano Come si chiamano Vabbè Non voglio nemmeno cagata Quindi sto zitta Comunque È come se io fossi una chef Con tre stelle Michelin E le altre ragazze Che li potrà incontrare Sono delle chef Io sono la Michelin Cioè Amo Dai sapete che scherzo Però Sul fattore Mila Già Dovevo salutarvi Vabbè Saluto anche Sungi Con due cuori Salvo Agro E Stefano Bonetti E Paola Soragni E no Sulla questione Mila Cioè io sono Boh Sono un qualcosa di Eh Faccio Faccio ridere i polli Però Cioè Che te devo dire Eh La vita è questa E È normale Che io Essendo Innamorata Dell'amore Come dice sempre La Clea Tu Anna vivi Per l'amore A me sapere che Adesso arriva l'inverno Ed essere sola E non avere Cioè Io Non sto parlando Di amicizia Di famiglia Di niente Sapete che Non mi manca niente E anzi Ringrazio Dio Di avere tutto Però Sai Tipo Adesso che arriva il freddo Andare al cinema Con tu amoroso Oppure Che avere qualcuno A cui raccontare Manca le cose Più Cioè Le dico con le mie Migliori amiche No? Facciamo un esempio Non mi è mai successo Ma Mi ipotizziamo Con chi Ne parlo Se non Amoroso Cioè Il amoroso È tipo Boh E poi Mi fa Molto Antonio Filippo Il bomber Il bomber live Ferdinando Cocco Rese Hit Raimondo Viviana Viola Fabio Artizzoni Un bacio Mi sta mettendo Delle Delle date Forse c'è gente Anche che ho già salutato Non sto capendo Che sta facendo Ok No mi sta mettendo Vabbè Antonella Ragusa Iuris Dostuni Giuseppe Wonderlis Marilena Sportelli Paolo Latriglia Un bacio Vi ricordo di andare a dare un occhio Al mio Vinted E di iscrivervi Al mio Vinted Perché io Adesso ho caricato Solo 2-3 cazzate Ma Nei prossimi giorni Anche quando Starete guardando questo video Io non ho ancora caricato Tutti gli articoli Datemi un paio di Datemi una settimana Una settimana e mezza Perché io anche lavoro Vado a scuola Faccio Youtube Faccio un miliardo di cose Quindi E Youtube è anche il mio secondo lavoro Quindi portate pazienza E Se mi seguite su Vinted O comunque Lo andate a guardare ogni sera E vi carico sempre roba Quindi può essere che trovate cose che vi piacciono Ludo Urva Laura Tiberio Giancarlo Tandrea Andrea Pezzino Nico Petrus Brothers 227 Daniele Norito Marco Bussolari Poi andrò anche a vedere i rama Cioè Ci sono un botto di aggiornamenti News Cose che non sapete Che vi devo raccontare Però Dovete darmi il tempo Per questo se non siete In quale scritti Non capisco cosa state facendo E Poi Allora Marco L'avevo salutato Guardate la lilla Scusatemi Vedete Non so se si capisce E là dentro La Occhio Tipo lato Poi Rossella Giordano Gagai Edward Scagliozza Sabato Step 08 Chiara Pittallis Orco Luigi Casarinna Diafrezza Luca Cimbo Imperia 77 Daniele Delgari Matteo Rivalta Lisa Scaparone Ilaila Emilia Dill Dio santo raga Nomi un po' più corti Rosario Giovanni Musico I giorni Di Kevin E i calciatori La 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 Con due uomini Fotoprofilo Giulie 3 Ciao ragazzi Un bacio Quello più simpatico Di questo gruppo E' stato I giorni Di Kevin I calciatori Sembra che sta per morire Sto Kevin Vabbè Andiamo avanti Se non siete stati Salutati Può essere che Magari vi siete iscritti Nelle ultime due settimane E Youtube Mi fa vedere Gli iscritti Dell'ultimo mese Quindi io adesso Vedo le persone Che si sono iscritte Fino al 28 agosto 2023 E adesso siamo al 28 settembre Quindi l'ultimo mese Dovete aspettare ancora un mese Per essere registrati qui E Un'altra cosa ancora Se avete il profilo privato Io non vi potrò mai vedere Cioè Non Non è detto Che mi compaia Mi compare di alcuni Non di tutti Quindi Fate attenzione alle impostazioni Che avete dato a Youtube Anche se con Youtube Studio Io vi giuro Vedo tutto Video che vede i miei video Chi è iscritto Quando vi siete iscritti Quindi Per quello vi dico sempre Se c'è gente Cattiva Gente che è qua Per Parlo di Ex Persone che ho Insomma Mi hanno conosciuto La vita Gli ha fatto il regalo Di conoscere me Quindi Di conoscere la Nina Ma Che evaporino pure Perché sono proprio persone Sofia Buscarini Cristian Garcia Valentina Pozzetti Grace 108 Lidia Fernanda Pereira Stani Salvatore Ciaravolo Gianfranco Griminti Achi Marino Martina La Fragolina Gioia Valentina Fontana Baby Birp Ba Air Styling Sonia Busa Giuliana Maria Berzesco Andrea Fornacciari Silvia Con Un Tramonto Tipo Cristina Iozzi Paola Castellani Massimo Sabatini C'è una foto Che sembri Un manzo Quindi Massimo Concedimi Di dirti Che Mamma mia Avrà Avrà Almeno Trent'anni Quindi Cioè Non Non fatevi D'idea Strane Angelo Agnossini Uno Se io con le gambe C'è un problema Uno Garrett 2010 Cristian Zucchi Ciao cuore Antonella Bovi Stefania Ferrara Antonella Polizzi Tito Tito Dodi Guarda Tito Dodi Interessante Il tuo nome Interessante Anna Constantin Claudio Beverelli Caterina Intrano Luca Cra Vaglia Varax 2 Tra l'altro Varax 2 Per esempio Me lo fa vedere Varax 2 Si è scritto Il 26 Settembre Quindi Proprio Un giorno fa Quindi pensate Lui è pure salutato Rossella Onorati Giulia Artuso Ma aspettate Forse mi fa vedere Perché ogni volta Mi dimentico Di fare Sto Allora Giulia Artuso Giulietta Tu hai Delle labbra Bellissime E Delle sopracciglia Perfette Ho appena cliccato Sulla tua foto Poi Giustina Tara Bast Tu Invece Mamma C'hai dei capelli Da favola E vedo Che segui Ramazzotti E poi vedo Cristaldi Andrò a cercare Sembra un gran figo E anche Grafene O Grafene Sembra un gran figo Mamma mia ragazze Mi vado a scoprire Di quei manzi Pensate che c'è una mia Compagna di classe Grande Ed è Si è sposata Praticamente Una settimana prima Che iniziasse la scuola Quindi una settimana prima Del 13 settembre E praticamente È andata con Suo marito In Madagascar È tornata Mi ha fatto vedere Delle foto Del mare Io gli faccio Ma Potevi fotografare I manzi Che c'erano in Madagascar Cosa me ne frega Ma del mare Scherzo Antonio Mastro Donato Marco Minestrina Minestrina L'ho già sentito Quindi ci deve essere Anche il fratello Mi pare Antonio 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 Originale Tu Marilisa Agro Alessia Mintroni Vediamo Alessia Alessia Tu hai Un viso Bellissimo Di alineamenti Molto sottigliati E hai quel Maglioncino Multicolor Che spruzza Allegria Vedo chi serve Cucina botanica Quindi Mi piace questa cosa Simone Marastoni E poi Chi abbiamo Angela Saggia Angela Tesoro Tu puoi essere Scema No Perché se no Non scrivi Angela Saggia A Di Marta Gomiz Laub E Antonella Belmonte Ok Non me ne fa Vedere Altri Non me ne fa Vedere Altri Quindi Io li abbiamo Finiti Però aspettate Che Vi metto Un attimo Eccolo qua In la descrizione Allora Datemi un attimo Che adesso Scorro ancora Per vedere Se ho salutato Tutti Oppure No Allora Daniele Vergari Non so se l'ho Salutato Lo so Poi Anche questo Non l'ho salutato Vedete che Youtube Mi fa gli scherzi Dio santo Daniele Nordo Ciao Daniele Un bacio Poi abbiamo Ferdinando Coccorese No Forse questo L'ho salutato Portate un attimo Pazienza Giancarlo D'Andrea Ciao Viviana Viola Non credo Di averti Salutata Raimondo Valentino Pace Marilena Sportelli Cristian Garcia No Questo l'ho salutato Questi li ho salutati Lui l'ho salutato Matteo Rivalta Ok Vado ancora un po' In vitro E poi mi fermo Perché Penso che Quelli Li ho salutati Tutti al massimo Se ho salutato Qualcuno Ditemelo Se Siete stati Salutati Fatemelo sapere Qui sotto Perché ovviamente Starei contenta Di saperlo E Se non siete stati Salutati Ma volete essere Salutati Nel prossimo video Saluti Scrivete Tutti Qui sotto E io poi Vi saluterò Ludo Urba Marco Menestrina Se l'ho già detto Anche qui Antonella Bovi Angela Saggia Sì Aspettate Wait Salvatore Ciaravolo Manzetto Hai scritto Il mio canale Luca Caravaglia Sì L'avevo Già Segnato Vediamo lui Anche Nicola Molinari Ragazzi Questo video Sta diventando Un po' troppo Imbarazzante Perché Sto Praticamente Parlando Solo di Manzi Daniele Attizio Però questi Sono ancora Di giugno Ma giugno Vi avevo Salutati Quindi Direi che Mi fermo Qui E l'ultima Persona Che Saluto È Allora Una ragazza Saluto Real Danny Life Fiore E Sì Qui Ok Ci sono Mi sto capendo E saluto Lucio Calandro Ciao Ciao Allora Benissimo Adesso Invece Provate Pazzenza Quasi finito Vado Sul Mio Canale E cerco E cerco E cerco L'ultimo video In cui ho salutato Le scorse persone Diciamo così Ok Allora Questo di un anno fa Questo è di tre mesi fa Avevo anche i capelli lunghi Le nove mesi fa Un anno fa Il video Oggi No Direi che è questo qui E tra l'altro Ho fatto anche Cioè Ha avuto anche un bel successo Il video Perché mi sembra che Vi sia piaciuto Allora Adesso vado a vedere I commenti Vabbè Saluto Alice Pedul Pedulama Tra l'altro Alice Guarda Io ti dico Fai di quei palletti Di quei video A volte Per addormentarmi Vado a vedere Te che balli Sei una bomba spaziale Sei bravissima Sai Alice Poi Samira Granucci Viola Cioè Vio Vio Ciao Vabbè Insomma Tu sei Se hai nel mio cuore Lo sai Non hai bisogno Che te lo dica Baby Alex Carrie Brezzo Giorgia Giorgia V Mio cuore Ciao Giorgia Donatella Scanu It sounds like Lorenzo Negro Slow Weight 2218 Noctis Wolf Wolf Lask Gamer Deluxe Twice Strawberry Andrea Minetto Un bacio Ragazzi Devo muovermi Perché il computer Si sta per spegnere Maria Maria Chiara Ripauto Miss Hater Andrea Brosetti Andrea Che non ti avevo salutato Questa volta Ti saluto 10 volte Ciao Andrea Ciao Andrea Ciao Andrea Ciao Andrea Ciao Andrea Ambrosetti 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 Andrea Ambrosetti 2921 Un bacio Grazie Se ci sei ancora Nel mio canale Fabiana Fabiana Hai bisogno di parole Fabiana È tipo Lady Gaga È tipo Jennifer Lopez Georgina Sweet Saluto anche Georgia SMR Ila Sono iscritta Ila561 Ciao Il Milanista 2770 Fabrizio Leggeri 04 Ciao Ricchi Drago Ciao Belfa Corblu Ciao Stefano Baldano Ciao Andrea Prischigliaro 5377 Ciao Bene Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Andate a dare un occhio Su Inted Vi lascio il link Qui sotto Iscrivetevi al canale Così nel prossimo Video del saluto Degli iscritti Ci sarete anche voi Grazie Per esserci Grazie Per supportarmi Ne parleremo anche Della mio Ragazzo Che attendo In un altro video Però sapete che Mi confido con voi E E niente Ci si vede molto presto Poi anche se riesco Appena posso Registrare un bellissimo vlog Ciao a tutti Ciao a tutti